E per la quarta serie Giulia Mattiusi, Nulo Saruta, in due Arianna Marsi, con tre Giulia Furiano, in patto Giulia Turcutto, in cinque Anita Giardini, in sei Alessia Sagatto, in sette Martina Veronese, in ottima corsia Lo ricordo, quello che è il prossimo blocco di premiazioni Al termine della farfalla femminile Quindi mancano cinque serie ragazze E undici serie assolute Quindi tra sedici serie Effettueremo le premiazioni Delegare dei 50 ranna maschili E 50 farfalla femminile Alessia Cunegratti 34-53 alla vittoria di quinta serie